Ed eccolo qui con noi, l'abbiamo aspettato, Bruno Rissas per un bel po' di bella musica. Diciamo che dopo questo momento mi mettono sempre a me in finale serata, non per una questione di brazzola ma perché sono uno svuotatista diciamo. La gente è già a questo punto della premiazione, è arrivato a quel momento proprio che vuole andare a casa, fumarsi una signora interna e arrivo io con queste canzoni di deprimenti, quindi è vero, è così. Per cui darò dimostrazione di questo, però anche di un grande chitarrismo che in qualche modo mi accosta ai grandi come Aldo Neola e Pat Metini. Vi farò una serie di brani tratti dai miei dischi che sono fra i più belli nella storia del cantautore non solo italiano ma anche internazionale e quindi unisce il talento musicale anche ad una grande bellezza che adesso si completa con l'uso del cappello che nel cantautore non indica la maturità ma l'inizio di una calvizia incipiente. Sappiamo che è sempre così. La chitarra scordatissima tra l'altro, un attimo solo. È stata accordata fino adesso? Intanto potete mandare il fumo che fa effetto. Grazie.